ciao amici benvenuti in cucina con Mauro oggi vedremo come preparare la torta salata di verdure vediamo insieme i ingredienti una provola da 250 grammi 3 uova un foglio di pasta sfoglia tondo un peperone una zucchina sale e pepe andiamo alla preparazione adesso prendiamo il peperone lo tagliamo a metà e lo prendiamo dai semi interni dopo iniziamo a tagliarlo sia a strisce che a quadrotti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sempre anche lei a cubetti e li mettiamo assieme ai peperoni 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 adesso andiamo a mettere un po' di sale e un pizzico di pepe e mescoliamo ok dopo le verdure andiamo a tagliare la provola affumicata chiudiamo a fette ok teniamo così quindi potrebbero bastare se no coso mai tanto ce n'abbiamo ancora la teglia prendiamo la pasta sfoglia e lasciamo sulla carta forno e la mettiamo direttamente dentro la teglia ok così a posto adesso andiamo andiamo a buccherellarla andiamo a coprire il fondo con la provola andiamo a mettere ancora un po' di provola che non basta questa provola qua sono 250 grammi ok con un pezzettino poi siamo a posto una volta fatta questa operazione qua andiamo a mettere le verdure ok una volta messe le verdure andiamo a sbattere le uova ma usiamo sempre la stessa la stessa mettiamo un pochettino di sale con una forchetta andiamo a sbattere con una forchetta andiamo a sbattere con una forchetta andiamo a sbattere qui sotto e versiamo l'uovo un po' dappertutto ok le mettiamo su ancora qualche pezzettino di provola ok 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 è posto così mettiamo sui gorti fornare per 35-40 minuti forno statico e 25-30 minuti forno ventilato ecco che la torta rustica è pronta la lasciamo raffreddare e dopo andiamo a sformarla andiamo a prova del taglio e adesso andiamo a provare l'assaggio mmmm molto buona fatela vi aspetto sul mio canale ok 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 vediamo